Allora ragazzi premettiamo dicendo che ne ho viste di tutti i colori su questa cometa e chiaramente avendo comunque anche una serie sul canale dove gioco prettamente con gli iscritti a fortuna Direi che tanti mi hanno chiesto ma cosa ne pensi anche soprattutto su direct su instagram simo trattino in basso o bl Allora io onestamente come sapete non so se lo sapete però vabbè ve lo dico perché tanti di voi magari non l'hanno intuito Io sono amico di Pazzox cioè quello youtuber che porta a fortuna che probabilmente molti di voi conoscono se sono arrivati qui solamente per fortuna Ne abbiamo parlato allora io l'unico reale video che potrei reputare tale come pseudo teoria è quello di pura fibra italiana Mi è piaciuto tantissimo perché ha portato dei ragionamenti interessanti è andato a studiare chiaramente alcuni codici di gioco nascosti Molto 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 bello gli altri invece che ho visto prettamente almeno quasi tutti sono stati non lo so dei video un po per accattarsi qualche visual Che chiaramente non ci sta niente di male secondo me su sta cosa però bisognerebbe essere un po diplomatici quanto meno Mi è piaciuto anche il video di Pazzox in questo senso ma tanta tanta gente ho visto che ha cercato di trovare le scamotage per riuscire a farci qualche visual in più Io allora alcuni commenti secondo me del tipo puoi arrivare a raggiungere la cometa se tipo ti metti non lo so sul arrivi fino in fondo al limite massimo di costruzione Ti spari con un amico il razzo sulle gambe no e vai su e poi spari il razzo guidato No ragazzi cioè allora l'Epic Games non è non è una società o una software house che è nata ieri allora sono i fondatori di Gears Adesso magari i più giovani non sanno chi sono Gears però cioè non sanno cos'è Gears per dire adesso Io non sono un grande esperto della volta celeste né tantomeno delle comete ma a me non è par mia che vada verso pinnacoli pendenti Poi non so allora io non credo alla teoria del fatto che pinnacoli pendenti verrà distrutta da questa meteorite Perché tecnicamente sarebbe difficile da fare molto molto difficile perché proprio pensate bene cioè tecnicamente come ha detto anche pura fibra italiana Io mi ci trovo molto d'accordo perché il videogioco dall'età tipo di 4 anni una cosa del genere Effettivamente per un programmatore è molto più semplice cambiare la sorgente chiaramente del gioco Togliendo più che altro lo spawn degli oggetti da pinnacoli pendenti così che poi la gente non è più motivata ad andare lì Perché risulta chiaramente un posto vuoto quindi cioè tanto vale tipo andare a magazzino muffito o a tomato town Cioè nel senso tecnicamente si può farla anche spawnare andare via come è stata introdotta cioè così Il discorso della cometa secondo me ci stanno giocando tantissimo sopra le persone per riuscire a far andare bene il gioco e a farlo mettere sulla bocca di tutti E ci sta è una cosa molto buona però tecnicamente bisognerebbe anche visto che si parla di questo gioco per quello che è Parliamo bene secondo me cioè tutti i vari test che si vedono non si possono fare la epic come vi ho detto non è nata ieri Non puoi fregarli facendo la massima costruzione sparando tirato sulle gambe Cioè no no Una cosa che però è vera è che tecnicamente quella cometa incomincia ad ingrandirsi sempre di più settimana in settimana E come può farvi vedere queste immagini qua che vi lascio a me sembra che punti verso la zona di spawn Io credo che questo collegamento sia legato al fatto che verrà introdotto chiaramente salva il mondo gratis È una sorta di promozione pubblicitaria probabilmente alla fine di questa stagione di questo pass battaglia Avremo delle informazioni maggiori a riguardo Il fatto è che mi raccomando ragazzi ragionate un po' con la vostra testa perché ne ho viste di tutti i colori Allora va bene pensare che comunque questa sarebbe figo Però io non credo che questa cometa possa andare a distruggere i pinacoli pendenti E se succederà solo il primo a dire guardate ho sbagliato però almeno ho dato voce alle mie ragioni Chiaramente come vi ho detto sembra proprio che la cometa vada da tutt'altra parte Poi non so può cambiare anche direzione questo non lo so Sarebbe figo se comunque un evento del genere possa distruggere i pinacoli Ma non credo che però sia possibile perché diciamo che in economia di tempo L'epic non so quanto ci potrebbe guadagnare sopra Visto che appunto come vi ho detto basterebbe far così e il gioco è fatto Togli il loot e basta Questa qua secondo me è solo una trovata pubblicitaria tra virgolette per riuscire a far vendere di più un po' il prodotto Insomma ragazzi spero che comunque questo video vi sia piaciuto Ditemi un po' la vostra cosa ne pensate qua sotto nei commenti E mi raccomando visto che proprio su direct continuavate a scrivermi Nel senso che comunque non è che nel senso mi fa piacere anche rispondere anche su discord sul nostro server Sul mio server che poi vabbè è tutto nostro alla fine Ma il discorso che comunque adesso abbiamo direttamente il video Se volete dirmi la vostra ditemi la vostra e così magari creiamo un po' l'area di discussione Ecco e se siete nuovi mi raccomando Ho una playlist dove comunque gioco diciamo ogni settimana Adesso c'è la settimana del romics perché sono al romics ma vabbè Ho un gioco più o meno una volta alla settimana Sì con gli iscritti, registro le partite e poi le carico sul canale Sempre su Fortnite e non solo comunque Detto questo ragazzi mi raccomando Da qui a poco è tutto E noi ci rivediamo nel prossimo video E noi ci rivediamo nel prossimo video